Da Gauto, Mitsubishi Motors, in via nazionale torrente, mercogliano, a Villino. La città di Ariano è sbigottita rispetto agli ultimi fatti di cronaca, portati alla luce dai carabinieri che hanno arrestato una 42enne di origini romene che ha vissuto per un lungo periodo ad Ariano ed un 63enne di Benevento. Insieme avevano architettato un diabolico giro di ricatti, estorsioni, prostituzione. Una delle vittime, un uomo di Ariano, non ha retto al peso di questi ricatti e nel 2017 si è tolto la vita. Da lì sono partite le indagini dell'arma. Oggi gli arianesi si interrogano su chissà quante altre persone possano essere finite in quel meccanismo perverso e sul come sia possibile che tale lerciume possa aver attecchito in una società quale quella arianese fondamentalmente sana. Sulla vicenda abbiamo chiesto un'opinione al vicario della diocesi, don Antonio Blundo, per il quale il tessuto sociale arianese è costituito da una maggioranza silenziosa che non fa cronaca. Non appartiene alla cultura arianese questo comportamento, però ci sono commistioni di culture, di razze, di religioni, di sensibilità. Poi ci sono problematiche sociali che quasi spingono al delitto per rimanere a galla economicamente, chissà come. E allora non è questo per giustificare. Però sono fatti incresciosi soprattutto quando su delitti perpetrati da persone fragili, deboli, spinti da necessità spirituali, economiche, eccetera, c'è lo sciacallo che ci lucra su queste cose. Questo veramente, ripeto, esula dalla convivenza nostra, per cui stiamo lì perplessi senza giudicare granché. C'è il rischio adesso che l'opinione pubblica si scagli contro la straniera cattiva di turno, ma don Antonio invita a non generalizzare e a distinguere sempre le brave persone dalle pecore nere. La maggior parte di questi che sono accolti in Italia, per quel che conosco, sono persone laboriose, persone oneste, persone per certi versi anche edificanti, perché ho avuto modo di avvicinarne tante di queste persone. Spesso sono positive, sono ottimiste, però c'è anche lì la famosa pecora nera che rovina tutto il quadro, che certamente è incomiabile. Perché la famosa pecora nera poi fa sì che si sviluppi quella forma di razzismo che invece non dovrebbe esserci. Io spero di no, perché faccio appello all'intelligenza dell'essere umano e degli arianesi in particolare, che sapranno distinguere, sapranno apprezzare il positivo e saranno capaci pure di prendere le distanze dal negativo.